Direttore, allora sarà Luciano Zaurio a guidare il Pescara in queste ultime partite della stagione regolare dei play-off. Come siete arrivati a questa decisione? Siamo arrivati a questa decisione perché volevamo dare una sterzata, volevamo cambiare qualcosa, volevamo portare aria nuova. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto due punti e abbiamo deciso di cambiare con tanto dispiacere. Perché quando cambi la colpa è sempre di tutti, chi ci rimette è sempre l'allenatore, lo sappiamo perché è più facile cambiare una persona che 22-23 giocatori. E' andata così, dispiace tantissimo per il mister che è una persona vera, un grande lavoratore, un allenatore preparato. Però sappiamo che sono cose che possono accadere nel calcio. Quindi il Presidente mi ha dato la possibilità di parlare con chi volevo, giustamente gli allenatori che erano liberi e abbiamo deciso di puntare su Zaurio adesso. A proposito di questo, lei poche ore fa aveva avuto anche un incontro con Gigi Di Biaggio, poi evidentemente non c'è stato l'accordo con l'ex CT dell'Under 21. Io non ho detto che non c'è stato l'accordo, l'avete detto voi, ho fatto una bellissima cena con Gigi, l'ho conosciuto, è un onore per me di aver incontrato una persona importante come lui, come ho incontrato anche altri allenatori. Poi su questi quattro abbiamo deciso di civilizzare, poi ovviamente non dirò mai chi ha declinato, chi invece è stato escluso, questo non mi permetto di dirlo. So solamente che adesso... Può dire qualche altro allenatore che avete contattato? No, no, ma non è giusto, non è giusto, magari... Senza dirci se... So solo che, lo sa, tanto la lista degli allenatori disponibili sono rimasti pochi, quindi basta fare due calcoli. Ho parlato con quattro persone, abbiamo scelto di puntare su Luciano che qua ha già fatto bene, è una persona seria, è una persona che ha tanta fame, tanta voglia di rilanciarsi. Quindi porterà quell'aria nuova, fresca, quella voglia anche ai ragazzi di fare qualcosa in più, anche quelli che giocavano un po' di meno. Quando arriva un allenatore nuovo di solito tutti si vogliono mettere in mostra, vediamo se i risultati poi ci daranno ragione. A questo punto non ci sono più alibi per la squadra? Ma gli alibi non ci sono per nessuno, ma non è questo, perché sennò sembra però, giustamente, fino adesso, gli errori sembrano che siano stati fatti anche solamente da Mist Auteri. Io non la penso così, tutti abbiamo sbagliato, chi ci rimette, come ho detto prima, è sempre una persona, è più facile mandare via un allenatore, anche se non ha tutte le colpe. Però adesso giustamente mancano tre partite, più play-off, allenatore nuovo, i ragazzi dovranno sicuramente cercare di dare qualcosa in più. Mattea, a chi dice che in questo momento, anche con l'esonero di Auteri, si registra un fallimento tecnico nel Pescara, lei cosa risponde? Io vi dico che il fallimento tecnico per me è esagerato, non è vero, poi è normale. Il fallimento tecnico è della stagione, al momento, ad oggi? Guardate, siamo partiti da quest'estate cambiando tra le cinque, noi siamo quinti, tra le prime cinque siamo quelli che hanno cambiato più di tutte. Abbiamo tolto contratti importanti, abbiamo portato gente nuova, non è perché ti chiami Pescara devi vincere, non è proprio così, non è stato un fallimento tecnico. La cosa che mi fa più male è aver perso il terzo posto, questo sì, perché magari con qualche punto in più potevamo arrivare terzi e giocarsi meglio i play-off. Quello sì, quello mi dispiace tanto, ma fallimento tecnico proprio no, perché non è il nome Pescara che devi vincere per forza perché ti chiami Pescara. Non funziona così, siamo partiti veramente da quest'estate cambiando quasi tutto, facendo un grandissimo lavoro, poi è normale, conta sempre il campo, poi se si vuole di fallimento tecnico diciamolo, ma per me non lo è. L'unico mio rimpianto è non riuscire ad arrivare terzi. Zauri resterà fino al termine della stagione, oppure c'è un'opzione, una possibilità anche per il prossimo anno, a prescindere da quello che succederà? Tre partite più play-off, penso proprio che rimanga fino a fine stagione. No, intendo dire questa stagione, partite della stagione regolare play-off, ma eventualmente per il prossimo anno, a prescindere da quello che accadrà. Se vinceremo il campionato avrà un contratto per la Serie B, altrimenti a fine stagione, lui ha firmato solamente da qui fino a fine stagione, se vinceremo il campionato rimarrà, altrimenti poi ci siederemo tutti insieme e vedremo. Se rimarremo tutti, se rimarrò io, rimarrà Luciano, se la proprietà rimarrà sempre del Presidente, se ci saranno altri proprietari, è presto. Cerchiamo di finire bene questo campionato, poi vedremo. Ultimissima direttore, al di là di Gaetano Materi, lo staff tecnico resterà lo stesso al fianco di Luciano Zauri? Arriverà solamente Luciano, lo staff tecnico rimarrà quello attuale.